Buongiorno a tutte e a tutti. Anche quest'anno, in occasione della giornata internazionale della donna, vogliamo condividere con voi una riflessione di Giovanna Ferrari, che ringraziamo per la sua disponibilità come sempre. Perciò buon ascolto e buon 8 marzo. L'8 marzo, giornata internazionale della donna, ha lo scopo di ricordare la lunga lotta sostenuta dalle donne per acquisire diritti civili e politici negati da una società storicamente androcentrica. Per quanto possa sembrare superfluo e anacronistico parlare nel 2024 di diritti delle donne, ritenendo che la parità sia ormai ampiamente raggiunta in un mondo che si dice civile, la discriminazione è invece un'esperienza che le donne in ogni parte del mondo, seppur informe e misure diverse, incontrano nella loro quotidianità. Certamente ci sono campi in cui le donne hanno potuto fare conquiste inimmaginabili solo pochi decenni fa, ma che ancora siamo lontani dalla meta ce lo ricorda l'articolo 5 dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, che parla di uguaglianza di genere come un sogno ancora lontano per tante donne nel mondo. Solo due terzi dei paesi in via di sviluppo hanno raggiunto la parità nell'istituzione primaria. In molte regioni del mondo accedere alla scuola primaria e secondaria per le bambine è difficile. La discriminazione di genere ha effetti importanti sul fronte dell'occupazione. Le donne sono spesso vittime di stereotipi e pregiudizi duri a morire che le accompagna fin dalla più tenera età e che si ripercuotono sulla scelta del percorso scolastico e sulle opportunità lavorative. Il gender pay gap, cioè il divario di genere salariale, inizia proprio dai sei anni tra bambini e bambine, le quali nell'ingresso al mondo scolastico sono orientate da pressioni anche latenti verso scelte considerate più congeniali al genere femminili, quali le materie umanistiche rispetto a quelle scientifiche, precludendo così la possibilità di carriere più rimunerative. Allo stesso modo le bambine vengono scoraggiate a intraprendere attività sportive e agonistiche, soprattutto in sport considerati ad appannaggio maschile. E quando anche esse superino l'ostacolo iniziale percorrendo strade prima interdette all'universo femminile, il pregiudizio può sfociare in ostilità verbale, ridicolizzazione, mobbing, molestie sessuali, penalizzazioni nell'avanzamento di carriera e nella rimunerazione. La disparità di potere tra uomini e donne alla base del sistema patriarcale ha nella limitazione all'accesso al lavoro e allo guadagno il suo strumento più efficace di autoconservazione. Non a caso la violenza economica di cui poco si parla, ma che solo in Italia colpisce il 21,1% della popolazione femminile, ha lo scopo di mantenere la donna in uno stato di subordinazione senza via d'uscita. Contro la parità di genere e il conseguente empowerment femminile gioca un ruolo determinante, la concezione ancora molto radicata anche nei paesi più avanzati, che il ruolo della donna si espleti nel servizio alla famiglia e alla casa. Le attitudini alla cura vengono attribuite per un insindacabile pregiudizio alle donne, cui viene negata l'agency, cioè la capacità di agire in modo responsabile ed efficace in base ad uno scopo specifico. Ciò nasce da una visione inferiorizzante della differenza sessuale femminile e fa sì che paradossalmente ad un essere ritenuto mancante di razionalità e di capacità organizzative vengano delegati l'amministrazione della casa e l'espletamento del lavoro domestico in risposta ai molteplici bisogni familiari, non ultimo il prendersi cura, che va ben oltre il mero accudimento, dei soggetti più fragili, bambini, anziani, malati, disabili. Lavoro che, benché calcolato in termini economici, corrispondente ad un 40% del PIL, non solo non viene retribuito, ma neppure viene considerato tale e privato del suo valore etico, economico e sociale, il più delle volte grava in aggiunta alle occupazioni retribuite fuori casa. La marginalizzazione delle donne a secondo sesso, quanto ad attitudini e capacità spendibili sul mercato del lavoro, fa sì che a parità di mansione, livello, competenze, essere donna comporti in molti ambiti lavorativi una discriminazione salariale. La gerarchizzazione della struttura familiare, per cui spetta al maschio, capofamiglia, la responsabilità del mantenimento e la titolarità della gestione economica del nucleo familiare, riduce a salario di supporto, quindi secondario, il reddito dal lavoro femminile. L'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 mira al superamento del gender pay gap che si acuisce man mano si sale ai vertici aziendali, dove le donne manager, ancora in numero minoritario, non raggiungono i livelli dei colleghi maschi. In Europa le donne rappresentano la metà della forza lavoro, eppure la differenza di retribuzione è intorno al 16%. In Italia il differenziale è ridotto nel settore pubblico, mentre nel privato è nettamente più alto. Generalmente le donne hanno un titolo di studio superiore agli uomini, ma questo non le avvantaggia, al contrario, più è alto il livello di istruzione delle donne, più si notano le differenze in busta paga. Il problema stesso della denatalità, letto secondo le logiche dell'economia, del mercato del lavoro, del PIL, sembra essere un imperativo categorico rivolto unicamente alle donne cui compete riempire le culle vuote. Nella stessa ottica utilitaristica viene incentivato l'ingresso delle donne sul mercato del lavoro, spesso per svolgere proprio quei ruoli di servizio e cura più bistrattati, precari e sottopagati, non tanto nell'obiettivo di incrementare l'empowerment femminile, quanto piuttosto perché, secondo una stima fatta a tavolino, ci sarebbe una relazione diretta e positiva tra la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la fecondità. Le statistiche però registrano una flessione del tasso di occupazione per le madri che aumenta con l'aumentare dei figli, mentre quello dei padri resta costante o in aumento. Questo perché non vengono fatti investimenti sul welfare, sempre più sofferente e non in grado di supportare le lavoratrici madri nella conciliazione dei tempi di vita-lavoro. I tempi non paritari di cura e accudimento della prole, poiché è interesse del sistema avvalersi del lavoro gratuito della donna, non costituiscono discriminazione lesiva del principio di bigenitorialità, per cui di conciliazione si continua a parlare ponendo tutt'al più sul fronte della condivisione la proposta di innalzamento di qualche giorno del congedo di paternità. Così, mentre da un lato essere donne in età fertile continua a essere penalizzante nell'accesso al mondo del lavoro, a prescindere dal desiderio o progetti effettivi di maternità, dall'altro la maternità continua a comportare per le donne una riduzione o addirittura la perdita della propria autosufficienza economica, oltre che del tempo libero determinante per la cura della propria dimensione personale e culturale. È così che scompare il lavoro delle donne, il lavoro di produzione, espropriato delle risorse, dei tempi, dei mezzi necessari, di dignità e valore economico, ma anche il lavoro di riproduzione, non riconosciuto nel suo valore sociale e personale per le competenze professionali e gestionali che sviluppa. Empatia, capacità organizzativa e di ascolto, spendibili anche al di fuori del contesto familiare. Eppure, il valore della cura, sia tra le mura domestiche che fuori, portato in primo piano dalla pandemia, è sempre più attuale e urgente in una società che sta progressivamente invecchiando. Per lavoro di cura si intendono oggi non solo i lavori domestici senza alcuna retribuzione, ma tutte le attività sottopagate nel settore delle pulizie e nel campo della cura di bambini, anziani, malati, disabili. Lavora ancora per lo più ancorato allo stereotipo della donna oblativa, portata a sacrificio e disponibile al servizio per sua stessa natura, per cui non necessita nemmeno di rimunerazione. Oggi il lavoro di cura è sempre più affidato a mano d'opera femminile straniera, che spesso paga un costo umano altissimo per l'allontananza dal proprio paese d'origine e dalla propria famiglia. Lavoro che, poiché non trova riscontro nel PIL pur producendo introiti miliardari, resta invisibile e rafforza le differenze sociali per etnia, nazionalità diversa, status migratorio tra le donne che ne usufruiscono e quelle che lo svolgono. Svuotando il lavoro femminile di dignità e valore, dominazione e sfruttamento appaiono come fatti ovvi, legati alla diversa natura dei due sessi. Sostenere le rivendicazioni femminili per ottenere pari opportunità di accesso e trattamento nel mondo del lavoro è dare piena attuazione all'articolo 37 della nostra Costituzione, che dal 1948 riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Ma è anche dare valore a quel concetto di cura che, associato al ruolo femminile marginalizzato per pregiudizio, risente della stessa irrilevanza e che al contrario dovrebbe essere al centro delle agende politiche nazionali e internazionali come cifra di un'umanità solidale, accogliente e pacifica, capace di uscire dalla logica predatoria di dominio e sopraffazione che la sta dilaniando. Alle lotte sostenute dalle donne contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro è dedicato l'incontro previsto per la serata di mercoledì 13 marzo alle ore 20.30 presso la sala convegni del municipio. Lo spunto per la riflessione ci verrà dalla visione del film We Want Sex, commedia impegnata che ci riporterà nell'Inghilterra della fine degli anni Sessanta, dove gli operai di un reparto della Ford diedero vita a una protesta destinata a cambiare il corso di molte vite, ma non abbastanza da sovvertire quell'ordine simbolico utilitaristico fondato sull'inferiorizzazione e lo sfruttamento del genere femminile che resiste alle conquiste culturali e normative. Vi aspettiamo per parlarne insieme e per condividere esperienze e punti di vista. A tutte e a tutti l'augurio di un buon 8 marzo.